La cucina è il nuovo rock'n'roll. Io sono il rock'n'roll della cucina. Ho in mente altri due o tre lavori che concernassero il fatto di lavorare con le mani. A me l'idea di stare tutta la vita dietro una scrivania da ragazzino un po' mi spaventava. Mio padre, che era un amante della cucina casalinga, napoletano, tutte le domeniche cucinava, faceva il ragù, faceva la carne al sugo, faceva il sartù di riso. E io la mattina sentivo questi profumi della domenica a casa che mi piacevano tantissimo. Mi svegliavo quindi sentendo il profumo del ragù che mio padre diceva sempre che il ragù deve pensare. Domenica per domenica piano piano mi sono appassionato ai colori, profumi, rumori della cucina. Allora ho detto voglio fare un'esperienza, andiamo a lavorare sulle navi. La crociera c'era questa opportunità e quindi mi sono imbarcato per la prima volta su una nave da crociera e lì ho iniziato a lavorare nelle cucine e poi da lì non mi sono più fermato. Non ho mai fatto grandi scuole di cucina, sono molto un'autodidatta sotto quel profilo là. Ho lavorato in tante cucine, in giro per il mondo, da New York, San Francisco, Los Angeles, Londra, Copenhagen, sono stato in giro, Parigi. Però sono sempre guidato dalla passione, dalla voglia di sperimentare. Il mio stile di cucina è definito da quello che poi è diventato anche il mio brand, quindi il lusso della semplicità. Quello che mi piace di più è sicuramente il cliente, la soddisfazione che può avere un cliente nel mangiare un piatto che magari è stato ragionato, è stato pensato, è stato sbagliato, è stato riprovato, fino a raggiungere quello che io desidero da quel piatto e poi trovare riscontro da parte del cliente che se siete a tavola lo mangia, mi fa buono. Ho scelto Neolit, mi sono innamorato del materiale, mi sono innamorato della filosofia dell'azienda, nel senso che nella progettazione del nuovo ristorante cercavo un materiale che si adattasse anche i miei vari animi, un po' rock, un po' eclettico, un po' innovativo come genere, cercavo qualche cosa che si distanziasse da quello che sono gli altri materiali usati comunemente nella ristorazione. Il locale ha 700 metri quadrati di sviluppo, io penso che di Neolit ne abbiamo usati almeno 900 di metri quadrati perché oltre a tutta la sala ristorante che abbiamo usato un nero zimbabwe, il rivestimento del bancone dove abbiamo usato un calacatta, il rivestimento dei bagni sempre calacatta, per la cucina abbiamo usato un iron corten per i pavimenti, per avere un contrasto molto forte sulla cucina che era industriale, quindi in acciaio. Poi abbiamo usato per i pavimenti dei bagni Bohème, un materiale che abbiamo usato a 360 gradi in tutti gli ambienti del ristorante e per tutti gli usi. È un materiale che si adatta alla cucina e al cibo vero e proprio, il lavorare anche sul materiale Neolit per quello che riguarda grassi, oli, pomodoro, frutta, verdura, pesce, è un prodotto facile da pulire, facile da poterci lavorare sopra, non si rovina, non si graffia, non prende odori, quindi per noi che lavoriamo in cucina è il materiale perfetto, quindi ci sono tanti motivi per cui l'ho scelto, principalmente anche per l'estetica, perché è bello. Grazie 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 Grazie